Verso le 17 e 15 di ieri, sulla A4 tra gli svincoli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, un auto articolato è finito rovesciato sulla carreggiata dopo essere entrato in collisione con un'auto. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco a corsi da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi mentre le persone coinvolte sono state assistite sul posto dal personale sanitario del SUEM. Dopo circa due ore i vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere il mezzo grazie anche all'ausilio di gru da parte del personale autostradale. L'incidente ha comportato la chiusura del lato est della strada per alcune ore provocando diverse code. Sul posto presente la pulizia stradale e il personale ausiliario di Autostrade Venete.